La regione Campania ha recuperato ritardi enormi, è andato ora sopra i target europei, quindi siamo andati oltre quelle che erano le previsioni in termini di capacità di spesa, però abbiamo ancora un grande arretrato, quindi abbiamo voluto mettere in campo una grande procedura di accelerazione della spesa, che è stata anche richiesta dal Consiglio regionale, ma soprattutto condivisa, questa è la cosa importante, con il mondo dell'impresa, con il mondo del lavoro, con tutte le categorie, i comuni, quindi con lanci, con un protocollo, quindi abbiamo previsto un grande piano, prima regione italiana a farlo, prima regione italiana che partirà. Intanto quella del 2015 dobbiamo finirla e quindi per noi ambiente, non c'è dubbio, bonifiche, vediamo quello che sta succedendo, abbiamo messo tutto sull'asse ambiente, insieme all'asse lavoro, quindi occupazione, sostegno al lavoro, quindi sono le due grandi questioni, poi certo ci sono i trasporti, la ricerca scientifica, tanti altri settori importanti della nostra regione, ma quelle due grandi emergenze sono bonifica, ambiente e lavoro.